Sulla Italia continuano a prevalere condizioni di forte instabilità generate da una vasta depressione ancora presente sulle regioni centrali europee, che influenza più direttamente le regioni centro-settentrionali italiane, ma che occasionalmente si porta anche su quelle meridionali, dove anche ieri ci sono stati dei locali temporali. Sulla Basilicata avremo cielo sereno, poco nuvoloso e mattinata su tutto il territorio. Durante le ore più calde si formeranno dei cumuli temporaleschi che daranno origine a locali piogge o temporali sulle zone più occidentali della regione. Sul lato orientale e settentrionale invece si manterranno condizioni di tempo accettabile con ampie schiarite. Le temperature minime saranno stazionarie e quelle massime risulteranno in calo sulle zone più occidentali, specie nelle zone interessate dai fenomeni. Potenza a 10 gradi la minima, 20 gradi la massima. Matera a 15 gradi la minima, 26 gradi la massima. I venti saranno di debole intensità e proverranno ovunque da nord-nord-ovest. Qualche rinforzo si avrà nelle zone interessate dai temporali. I mari, sia lo Ionio che il Tirreno, saranno calmi. Previsioni per domani. Avremo una temporanea diminuzione dell'instabilità pomeridiana, ma non mancheranno fenomeni sparsi sul territorio che si presenteranno più probabili anche domani sulle zone occidentali della regione. Qualche temporale sarà possibile nelle zone interne. Le temperature rimarranno stazionarie in attesa di una lieve diminuzione prevista per giovedì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.